Un defibrillatore per la casa famiglia Armonia in via Erbosa. Si tratta della donazione di Stefania Sanzotta in memoria del padre Salvatore. Questa donazione è nata da un'associazione che si è costituita di recente e dai proprietari di questa abitazione che hanno voluto così ricordare il padre che ha lavorato qua. Noi abbiamo vissuto qua, abbiamo fatto le scuole qua e abbiamo voluto donare tramite l'incontro con il dottor Faltoni, quindi alla Croce Bianca, questo strumento che oggi è veramente indispensabile. Il nuovo strumento si inserisce così nell'importante rete di defibrillatori già presente in provincia di Arezzo. Per fortuna ad Arezzo ci sono diverse strumentazioni di questo genere e ovviamente speriamo sempre che non serva a nessuno, ma salvare una vita lo sapete meglio di me quanto è significativo. Quindi la famiglia Sanzotta ve la ringraziamo come Croce Bianca Rigutino per questo gesto veramente importante e dedicato alla città della loro origine e il ricordo del padre che credo ad Arezzo tutti conoscevano, me compreso il dottor Sanzotta. Si trova qui all'interno di questa struttura, il defibrillatore, ma potrà essere utilizzato dalla cittadinanza. Ci troviamo nel cuore del quartiere Giotto. Sì, è chiaro che vale come donazione alla Croce Bianca da parte della famiglia Sanzotta, ripeto, ma è a disposizione di tutta la collettività. Quindi anche gli operatori di questa Casa Armonia, che è una casa famiglia per anziani, saranno istruiti per adoperarlo tutti quanti in maniera corretta. Grazie a tutti.